ragazzi sono veramente euforico ho appena finito la giornata di lavoro e stasera il masto mi ha dato un gelato artigianale ha detto sei stato molto bravo basta con sti ghiaccioli oggi ti metti veramente un gelato artigianale ecco questo è quello che fanno i bravi imprenditori non ti danno mica 10 euro minimi all'ora ti danno un gelato queste sono le pache che sono in questo paese allora godiamoci i gelati artigianali